ciao ragazzi bentornati eccoci qua per il video sulle nuove tariffe di team ve ne siete accorti che è uscita? me ne sono accorto anch'io anche da quanti mi avete iscritto ecco il canale subito dalla parte degli utenti campanellina continuate così con like e con le iscrizioni grazie perché siete super tecnicamente fantastici e super preparati e non poteva mancare il video eccolo qua un po di off topic prima grazie delle segnalazioni sul video degli iphone in cui avete state partecipando in tantissimi sul video dei nuovi iphone mancavano due piccole cose che erano nella scaletta le dimenticate l'XS Max è un dual sim e l'XR ha lo stesso processore di due fratelli maggiori chiuso il video completata l'opera il l'utente più veloce dello scorso video gineva privaz adesso non mi ricordo bene il cognome scusami ciao e sul prossimo video verrà salutato chi in questo video velocemente sarà il primo commentatore avrà un super saluto adesso andiamo a spiegare da domani cosa potete fare con team che tenta di giocarsi delle carte visto che è un periodo un po difficile per tutti gli operatori da star rosicchiando mercato a tutti soprattutto anche a team e questo è un win back attack per tentare di recuperare sia da Iliad e operatori virtuali che da tutti gli altri numeri allora da domani potete attivare due tariffe la titanium e la platinum la platinum a 5 euro se provenite da Iliad o da mobile da operatori virtuali potete avere minuti limitati 50 giga composte in maniera particolare in 4g se siete provenienti da h3g da vodafone insomma dagli altri operatori fisici potete avere lo stesso bundle ma 9 euro e 90 centesimi quindi sono due tariffe distinte che si possono avere sia se si proviene da tutti gli operatori che vi ho detto sia soprattutto quella più conveniente da 5 euro da Iliad e dagli operatori virtuali voi mi chiederete conviene è la tariffa migliore che ha mai fatto la team stupore paolo cosa faresti ce la consigli non ce la consigli beh io avevo parlato anche della 7 go vi ricordate quella a 7 euro appena uscita Iliad la sparò fuori durò tre settimane io ne avevo parlato male qualcuno mi ha detto ma no è sparito dopo tre settimane vi ricordate no che poi io le cose non me le dimentico gli avevo dato appunto una votazione non molto alta non l'avevo considerata eccellente perché comunque era un copia incolla costava comunque un euro in più di Iliad secondo me non durava e poi non è durata ovviamente perché era comunque un tentativo subito da appiccicarsi in qualche modo l'incollamento di Iliad questa qua invece è una maniera diversa di tentare ad andare a recuperare i clienti cioè tento di fare un calo prezzo di 2 euro 99 rispetto alla tariffa che hai in corso adesso con i 50 giga e t'attacco no attacco ovviamente l'avversario giustamente un tentativo che sembrerebbe avere una logica ma una logica in realtà non ha perché non ce l'ha adesso ve lo spiego con calma e vi faccio un po capire come diciamo team sta cercando di entrare nella psicologia parliamo sempre di psicologia perché anche qua ci vuole lo psicologo per capire che ha composto questa tariffa perché veramente è difficile anche comprenderla e questo anche un po non positivo perché poi uno che deve fare una tariffa deve anche comprenderla bene adesso io vi spiegherò tutti i vantaggi e svantaggi conti reali e il perché secondo me questa tariffa assolutamente non conviene io rimango assolutamente in Iliad ve lo dico subito ma non scherziamo neanche è un tentativo tra l'altro anche un po' sotto forma di pubblicità ingannevole come hanno fatto tutti è stata anche Iliad una volta punita per la pubblicità ingannevole Vodafone, Etima, Iose, H3G non ne parliamo ecco anche in questo caso io vedo un po' non è proprio una pubblicità ingannevole è un modo un po' ingannevole di non essere chiare al 100% come sempre questo che a me non piace di questo tipo di tariffa soprattutto perché è più costosa in effetti di quella di Iliad anche se voi mi direte ma come 5 euro è più costosa è più costosa e soprattutto è stravincolata e di conseguenza io non voglio più i vincoli vincoli basta tariffe con i vincoli non ne faccio più io parlo per me e per tutto il popolo i milioni di clienti che già hanno aderito a non avere più vincoli e viva tutti gli operatori tutti che si avvodano i team che romperanno questo muro dei vincoli qualcuno già ci sta provando a farlo e viva e viva non ci devono essere vincoli libertà alle persone di scegliere la propria tariffa tariffe personalizzate per sempre e quindi è questo già è il primo monito allora innanzitutto in questa tariffa non c'è scritto che è una tariffa per sempre questo vuol dire voi attivate una tariffa che domani può essere rimodulata non mi interessa non c'è scritto che è per sempre ve la possono rimodulare domani mattina quella di Iliad io devo paragonarla a quella di Iliad perché gli altri operatori hanno delle tariffe più care c'è scritto per sempre al di là che poi fanno delle tariffe più alte tra poco arriverà anche lo switch e attenzione che arriveranno anche delle tariffe nuove a risposta a questa qui quindi ne vedremo veramente delle belle che benvenga anche questa mossa della team per muovere il mercato ma comunque a 7,99 ti dà una tariffa per sempre che poi se da quella del 5,99 non ti vuoi muovere ce l'hai per sempre quindi questa non è per sempre poi costi di attivazione attenzione costo di attivazione di Iliad 16 euro ti porti a casa tutta la sim con la portabilità 27 euro quindi siamo già a 11 euro in più solo nell'attivazione siccome qua parliamo di piccoli conti i conti ve li faccio io un euro al mese pesa tanto 11 euro in più sono quasi un euro al mese in un anno quindi tu stai già pagandone 6 solo con il costo di attivazione tu non paghi 5, paghi 6 ok? perché è quello attenzione andiamo avanti nel profilo team base che voi attivate ci sono 2 euro di costi fissi della team base compresa e delle chat di conseguenza questi 2 euro pesano perché se voi non li disattivate e non ve lo dice nessuno e non c'è scritto nel contratto e questa è la poca trasparenza vi beccate 7 euro al mese più che l'euro siete a 8 quindi siete già più cari di un centesimo di ilial allora 5 più 1 12 euro nell'attivazione quasi sono 6 euro 2 euro della team base con la chat sono 8 euro come sto pagando 8 euro per non avere neanche gli sms e gli sms dove sono? gli sms contano ok ne usiamo meno ma c'è gente che ne usa 100 al mese io uso 40 sms al mese l'sms costa 15 centesimi un pacchettino della team costa 3 euro allora se devo aggiungere gli sms ne pago 8 11 euro al mese oppure se faccio solo gli sms e tolgo il profilo team base ne pago 8 per avere gli sms sono già più caro di ilial questi sono conti assolutamente puliti netti gli sms si usano e se tu non hai internet e sei scoperto da internet devi usare l'sms per comunicare se sei sotto la rete gsm e non hai l'sms ciao 15 centesimi di qua 15 centesimi di là hai già speso 3 euro e quel mese ne hai spesi 8 cioè i conti sono veloci gli sms possono servire per comunicare quando non sei sotto la rete internet ilia ti ridà illimitati e ce l'hai in tutte le sue tariffe per sempre qui non ci sono quindi peso degli sms mancanti peso degli 11 euro mancanti potresti già essere a 6 poi addirittura a 8-9 euro con i 3 euro in più del pacchetto di sms ma soprattutto il peso del vincolo 24 mesi se esco prima devo pagarti 20 euro ma perché? ma non esiste ma perché io ti devo dare 20 euro su una ricaricabile ma non è neanche un abbonamento ma già non ha senso farli sugli abbonamenti mi fai su una ricaricabile un vincolo di 24 mesi 20 euro 20 euro 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 quasi 2 euro al mese allora se io dopo 6 mesi esco ho pagato 2, 4, 6, 8, 10 ho pagato 3 euro in più al mese ho speso 10 euro al mese in 6 mesi se non ho disattivato il profilo team base che dovete disattivare subito perché i primi 2 euro ve li cuccano quindi sono già 7 euro ve ne pagate addirittura 12 al mese in 6 mesi per aver avuto una tariffa inferiore senza gli sms a quella di Iliad vedete i conti come si fanno veloce ma anche disattivando tutto anche disattivando tutto subito perché poi uno può disattivare il team base e pagare solo i 2 euro la prima volta il vincolo ce l'hai se esci prima i costi aggiuntivi ce li hai quindi sei praticamente allo stesso prezzo di Iliad ma non hai neanche gli sms ma soprattutto la genialata di non mettere il per sempre ma di mettere 47 giga più 3 cioè 3 giga di base e 47 in aggiunta ma perché non fate 50 giga appunto quello di Iliad 7,99 50 giga per sempre minuti limitati sms limitati semplice chiara è lì la vedi cioè 47 più 3 3 giga più 47 e qua ci vuole lo psicologo allora quello che ha fatto la tariffa e non mi dite che non ci vuole lo psicologo mi deve dire perché ha messo 3 giga più 47 ci sono due motivi uno c'è qualcosa che non quadra voglio dire due c'è qualcosa che non mi fido perché mi metti 3 giga base e poi me ne aggiungi 47 poi roaming all'estero 3 giga non 5 di là sono ben 5 quindi sono di più e poi questi 47 potrebbero sparire vengono rimodulati perché me li stacchi me li aggiungi come promozione aggiuntiva se questa promozione poi mi decade a me me ne rimangono 3 cioè vedete che non è chiaro 3 più 47 non si sa perché per sempre non c'è niente vincolo presente 20 euro se uscite team base chat 2 euro in più se esco prima di un anno perché dopo 7 mesi non voglio più farla ho speso quasi 11 euro al mese non ho risparmiato niente sto pagando per una tariffa che mi offre meno roaming non mi offre gli sms di più ragazzi questi sono i dati di fatto non è una critica io ho sviscerato e ho messo a nudo i conti della tariffa poi se qualcuno vuole provare il contrario magari mi sto sbagliando io ma questi costi fissi esistono il vincolo c'è i 20 euro se escono ci sono la team base con le chat se no le disattivi e non te ne accorgi e voi fidatevi che il 50% si becchi i 2 euro e magari se ne accorgi dopo 6 mesi è qua che vedete cioè se un operatore domani mattina viene qui e mi fa una tariffa team Vodafone io sono pronto sono felicissimo farò un video che parlerò bene di team Vodafone 4 volte in una settimana 5 euro per sempre con gli sms limitati senza vincoli con la segreteria con tutto compreso io gli ho una gran tariffa ma se tu mi presenti una tariffa tutta accastrata così con i vincoli con tutti i sotterfugi è un tentativo di andare ad accattare 100.000 clienti di rientro ma gli italiani non sono stupidi la gente oramai ha capito la gente oramai sa non si fa più influenzare dall'immaginetta con scritto il prezzo con i giga lì poi non c'è scritto sotto nelle note nulla per andare a leggere le note devi andare dentro vincolo 24 mesi 20 euro 27 euro per attivare ma perché ti devo dare 27 euro per attivare quando ne posso spendere 15 con quell'altro e tutte queste cose qua la gente le sa già le rimodulazioni la poca trasformazione la gente lo sa quindi se non sei chiaro e fai capire che ti sei tolto questa maschera che hai avuto negli anni purtroppo che ti sei creato magari anche ingiustamente qualche volta magari l'utente è stato troppo critico nei confronti di Tim o di Vodafone a volte invece ha avuto ragione molta ragione di esserlo per pubblicità ingannevoli per vincoli perché insomma ci sono stati errori anche da parte dei clienti sicuramente ma molto di più da parte degli operatori in questo caso si è creato questa cosa ma la gente ha capito benissimo che da una parte c'è un operatore innovativo simbox con una tariffa chiara trasparente tutto il limitato sms tutto quanto internet 50 giga per sempre senza problemi via paghi quello non ti toccherà un centesimo di credito almeno che non chiami a consumo comunque le cose sono scritte portabilità dal sito e tutto quanto no? da questa parte ci sono sempre questi dubbi poi se qualcuno ha 5 euro si fa impattare dal prezzo ci sono tanti non dico che stanno cercando di fregare la gente però stanno cercando di inculcarti psicologicamente qualcosa in cui tu ci puoi cascare pago 5 euro in realtà ne paghi 6 7 11 hai un vincolo hai 20 euro di qua hai i costi di attivazione cioè è chiaro che se tu guardi solamente il 5 con il numero di giga ci spendo meno già che non c'è scritto per sempre mancano gli sms per me già non va bene per me già non va bene assolutamente siccome parliamo di piccoli conti secondo me è un tentativo che aveva un'ottima potenziale se era svincolato finalmente da questa maschera che vi dicevo prima se non aveva vincoli se aveva un suo perché se c'era il per sempre se c'erano gli sms se non c'erano questi 24 mesi questi costi di attivazione ma fate un'attivazione a 9 euro con tutti gli anni e gli anni i clienti i milioni di clienti che avete avuto i problemi che avete avuto fate un'attivazione a 9 euro libera con una tariffa da 5 euro senza vincoli per sempre con tutto quel bando lì fate lì è un vero tentativo o non hai le possibilità economiche di farlo non vuoi esporti i conti non torno non lo so non lo so io adesso non voglio entrare nel merito dei grandi professionisti della team che lavorano lì che sono persone che sono anni e anni che sono lì e fanno i loro conti sono aziende importanti è un colosso italiano per carità di Dio gli auguro di riprendersi di riuscire a contrastare al meglio il fenomeno Iliad il fenomeno mobile io sono contento se tutti gli operatori domani mattina fanno una tariffa buona lo volete capire non mi interessa che sia Iliad team o Vodafone se Vodafone domani mattina gli fa la tariffa da 5 euro tutta svincolata è la tariffa numero 1 del momento pronto a dirlo ma fino adesso l'unico operatore innovativo per sempre senza limitazioni è Iliad è sotto gli occhi di tutti poi è chiaro ma Iliad secondo voi è preoccupato da questa tariffa qua sta ridendo benedetto Levi sta ridendo ve lo dico io perché ma perché lo sa benissimo che 7 euro 5 euro cioè che tutti con Kena poi tra l'altro si sta anche pestando Kena mobile stessa perché se tu fai una tariffa così hai Kena a 5 euro con la stessa tariffa ti porti via i clienti da là da là fanno un port out escono fuori e poi ti rientrano in team ma ti lasciano Kena perché poi vai a pareggiare lo stesso bundle di Kena a 5 euro della Kena Summer o di quello che verrà adesso che butti il 4G ti toglie i clienti da solo e poi Benedetto Levi lo sa benissimo che loro o Iliad faranno delle tariffe da 5 euro faranno delle tariffe da 7 euro tenteranno di riconquistare i clienti che Iliad gli ha portato via vuoi che non lo sa ma sa benissimo che c'è il vincolo sa benissimo che ha lo switch delle tariffe che tra poco sta uscendo la portabilità dal sito l'innovazione delle Simbox sa anche che appena arrivato sul mercato farà tantissime tariffe nuove ancora più bassi di quelle da 5 euro della team arriveranno come ne arriveranno un po' di più altre dei 7,99 con miriadi di giga dentro i telefoni incomodati d'uso la linea fissa c'è un sacco di prese di 3 mesi che sul mercato ma sapeva benissimo che team avrebbe sparato fuori questa tariffa da 5 euro a sensazione per tentare di recuperare ma è una tariffa che non ha potenziale per poter contrastare più di tanto capito è una tariffa buttata lì quell'altra è durata 2 mesi magari questa scusate un mese questa magari ne dura 3 non lo so magari dura per tutta la vita domani fa 16 milioni di clienti io non sono il mago telma però a mio modo di vedere è un tentativo di raffazzonare un po' di clienti adesso poi vedremo ecco ma non c'è comunque uno standard innovativo che lancia nuove tariffe con impostazioni innovativo qualche simbox qualcosa tariffe un pochino fantasiose un pochino più libere senza vincoli per sempre chiare vai incontro al cliente gli fai vedere che hai il cuore in mano ti do qualcosa di libero senza vincoli non vedo questo non la faccio ecco perché ho detto che non la faccio non vedo questa purezza ancora che non dico come vi ho detto tutti in un giro di miliardi non rimangono onesti l'avete detto anche Iliad stessa può rubare una mela in un giro di miliardi ma fammi vedere almeno che viene un attimino anche dalla mia parte ecco ho detto questo per questo video è tutto e poi vi ho spiegato bene le tariffe se volete farlo avete capito come si fa chi è da Iliad paga 5 euro chi è invece dagli auto operatori i 9,90 che tra l'altro è cara è anche 2 euro oltre quella di Iliad quindi lasciamo pure perdere ma perché fate due fasce di prezzi diversi tutta la tariffa da 5 euro per tutti quelli che escono fuori che sia Vodafone perché quello che va che vuole andare da team a Vodafone deve pagare 4 euro in più ma qui ci vuole lo psicologo veramente ciao e grazie come sempre grazie a tutti